Sono Gloria Bava Pidone, oggi sto facendo un corso in Skillab sulle emissioni in atmosfera. I nostri argomenti sono relativi agli aspetti legislativi, ma anche agli aspetti degli impianti che servono per trattare le emissioni e ridurre l'inquinamento atmosferico. Come sta andando il corso? Ho un'ottima partecipazione, i partecipanti fanno delle domande, quindi sono interessati per varie tipologie di lavorazione che fanno e quindi sono molto soddisfatta dell'inquinamento. Quindi la finalità del corso, qual è la prima finalità? La prima finalità è di fornire alle aziende le informazioni necessarie per poter selezionare gli impianti di trattamento delle loro emissioni, con particolare attenzione agli aspetti energetici che sempre più sono di attualità.